E' arrivato finalmente questo gol che ha probabilmente un valore doppio, che sapore ha? Beh, sicuramente ha il valore di tre punti e questa è la cosa più importante. Al di là del gol, sono contento che sia arrivato in casa, non ce la facevo più, però va bene dai. Sono contento soprattutto per la vittoria, poi il gol ci penserò stanotte dai. Ti mostri di esserti integrato sempre di più negli schemi di questa squadra, a che punto pensi di essere arrivato però tu? Ma guarda, il mio crucio appena arrivato qui era quello proprio di cercare di inserirmi al meglio in questa squadra, perché cambiare non è mai semplice. Penso che sin da subito mi sono inserito abbastanza bene, pian piano è venuta anche la forma. Adesso sto crescendo con tutta la squadra, vedo che la squadra è in netta crescita e se cresce la squadra crescono anche i singoli. Questa squadra è forte perché è un gruppo solido, è un gruppo solido, sa attaccare, sa difendere, sa gestire i momenti, sa gestire le situazioni della partita. Come ti dicevo prima, può cambiare in ogni minuto della partita e basta. Io penso che una squadra qualunque non va a regge e fa otto occasioni da gol in dieci minuti. Purtroppo quel giorno la palla non voleva entrare, stiamo parlando qui di una brutta sconfitta, che fa male in termini di classifica. Purtroppo